Musica Bella a tutti ragazzi siamo qua con un nuovissimo video su Call of Duty Black Ops 3 Oggi andremo a portare zombies Scusate ragazzi se il video non è potuto uscire stamattina Ma non sono riuscito a farlo in questi giorni Quindi lo sto facendo ora che sono appena tornato dal viaggio Quindi andremo a fare come vi avevo promesso la mappa C's Cube Unlimited Let's go Ragazzi intanto vi ricordo di iscrivervi al canale Ragazzi mettere un bel pollicino in su Condividere tutti i miei video con i vostri amici Di farli iscrivervi al canale E soprattutto una cosa importante Scusate se magari farò schifo in questa partita Ma non gioco a zombies da veramente un sacco di tempo E ho visto comunque che questa mappa è abbastanza difficile Non me la ricordavo così Io comunque ci giocavo a World to World E' veramente complicata Comunque Io spero che appunto il video vi piaccia E vediamo cosa riusciamo a fare Spero che vi piaccia appunto il gameplay E' uscito anche il mio video della postazione ragazzi Per chi se lo fosse perso mi raccomando Perché me l'avete richiesto in tantissimi Spero che vi piaccia Tanto alla fine non c'è nulla di Tre rigolette particolare va Quindi Andatelo a vedere mi raccomando Intanto qua mi si è bloccato tutto Ok mini lag all'inizio Perfetto ok Stabilizzato Allora Tanto la prima cosa che facciamo è Quick Revive Blocco di cheese Di promaggio Ok uno Due Tre Quattro E cinque Quindi andiamo a prendere questo E lo montiamo Allora dobbiamo cercare ragazzi di maxare I punti Perché servono appunto In questa parte di mappa Perché praticamente verso il round 2-3 Qui inizia ad esserci tutta l'acqua E comunque Essendo che Tra rigolette tipo il nostro personaggio Non sa Facciamo notare Come se fosse tipo lava E quindi moriamo Quindi Siccome le porte Costano 2000 Le prime 3-4 Dobbiamo cercare di maxare i punti Il meglio possibile Un Cortelliamo Spariamo Ok va bene Ok 1000 No Vasi 2000 Perfetto Ok No non ci credo Ecco Io non ho capito perché Si deve glitchare questa mappa Why? Ecco vedete La Ok L'acqua Ci sono riuscito Ragazzi ci siamo riusciti Ma ci siamo giocati Il quick revive Raga Vabbè Nulla Continueremo così Ok Speriamo che non ci salgono sopra Perfetto Qua c'è la musichetta Non so perché Sicuramente ci sarà qualche Qualche bibita tra sotto Questa porta Ok dobbiamo cercare di fare 1000 il prima possibile Ok Ok Nice Very nice Ok Allora ci dobbiamo maxare i punti Per arrivare a 2000 Allora praticamente Questa mappa è una sorta di Ci vuol dire labirinto Fino ad arrivare là sopra Che ci sarà un Te l'ho detto un test No? Che se lo superi Praticamente Ti fa Almeno su World at War Ti faceva prendere la tuta Di Iron Man E io adesso Non so se è la stessa Identica cosa Ma Mi sembra Mi sembra di sì Ok Allora Intanto abbiamo preso Ragazzi PDV Arma leggendaria Storica Ok Double points Sono qualcosa di impressionante Ora come ora Proprio mi stanno salvando la vita Ci siamo Vai vai Perfetto Mamma mia Guardate quanti punti Raga Poi soprattutto Se fate gli headshot Mamma mia Punti a manetta Proprio A questo punto ci Finiamo nelle car 9 Bibita Oh Già Bellissimo Ok Perfetto C'è questo Trigoletto Mini parkour Ok Nice Ok Oh Cavolo Dunque Bel problema Sì Bel problema Ma sì Ok Ah Lo zombie Ok Zombie al napal Zombie al napal Non buono Non buono Non buono No Non è vero Non è vero Raga Cioè Avevo i juggernaut No raga È incredibile No raga È incredibile Incredibile Non ci credo Non ci credo Round 5 così Oddio Oddio Ok Aspettate Vediamo se riesco Fast No Volevo fare fast restart Non ci sono riuscito Ok Eccoci ragazzi Siamo qua Di nuovo Facciamo un'altra ragazzi Perché se no Beh Un round 5 così Non ha senso Almeno cerchiamo di Portare qualcosa di più Concreto Allora Come ho detto prima Cerchiamo di maxarci i punti Non l'ho preso io neanche mezzavolta 1 2 3 Ok 1 2 3 E Andiamo Ok Sono piccoli trucchetti Ragazzi Vi Consiglio di fare Dare 2 3 colpi E poi Boom Ok Allora Attiviamo la corrente Ci dovremmo essere Tutti e due pezzi Si Ok Tutti e due pezzi Perfetto Nice Nice Ok Ci andiamo a prendere La cap Ok Io mi sono andato a chiudere Se ho fatto una stronzata Ok No no Non me neanche tanto Neanche tanto Ok 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 Questo Potrebbe essere un problema Perfetto Nice Round 3 GG Qua cosa c'è Ah Il Ok Perfetto Allora Allora Dovrebbe spawnarne uno qua Ok Si infatti Perfect No GG Ho preso il power up Che mi ha potenziato l'arma No vabbè Incredibile Incredibile raga Che culo Impressionante Ok Allora Accendiamo Accendiamo a prendere Il PDV Ok Allora ci facciamo Mille GG Guardate quante muniamo Mamma mia Allora Io farei Ok Perfetto Perfetto Peccato La partita di prima Perché non stavo andando Malissimo Ok Visto che Questa qui Quella maxata Cioè andiamo A scaricare Il PDV Si si Andiamo a scaricarci Il PDV Ok O ricarica Rapida Vediamo Perfetto Mamma mia Ok Questa potrebbe essere Veramente Una Di quelle partite Migliori Ragazzi Molto probabilmente Ve lo dividerò io In In parti Perché appunto Ehm Il video Penso che Sarà molto lungo Ecco tipo Lo buttate e morirò Che magari Mi metterò parte 1 Parte 2 Parte 3 Se almeno non Non vi carico un video Di 6 ore Raga Perché Non mi Non mi sembra il caso Doppi punti Doppi punti Mamma mia Double points Tutto di headshot Mooney Mooney GG GG No ma io avevo caricato Facciamo così Poi così Poi cosa c'è Già Mamma mia No non ci credo Per poco Piston kill No Non ci credo Raga Non ci credo Ecco Ve l'ho buttata lì Non ci credo No Come mi sto potendo Andare a pizzare Due partite così Raga Come Come Ok No Fast Restart Ok Ok abbiamo fatto Riavvio veloce Raga Ce ne facciamo un altro Ancora Raga Fino a quando Non faccio una bella partita Road to partita Seria Raga Road to Partita Seria Allora Oddio Uno Due Tre Quattro Cinque Io tutti Di tutte queste cose che sto avendo pull Non le sto sfruttando proprio per niente Prima la K40 Poi il Jager Niente E poi muoio come un cretino Perché non Praticamente Siccome è abbastanza difficile Perché ci sono parti Dove appunto Le scale tipo qua Non c'è E tu non te ne accorgi A velocità Però come fai a sopravvivere Se devi evitare di zombie E quindi E quindi Fai le gaffe di quelle Pesanti Tipo come ora Stavo per morire Con lo zombie di merda Ok Ok Riveriamo GG Nice Ok Facciamoci soldi per Il PDV E ci siamo Ok Corri 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 Perfetto Perfetto Headshot Nice Ok Ok Perfetto All'inizio Ragazzi Cercate sempre Di fare Headshot A manetta Mi raccomando Io ragazzi Vi chiedo ancora Scusa se sto facendo Veramente pietà Strano comunque L'altra volta Quando abbiamo giocato in live A mob of the dead Non era andata così male Però ragazzi Cioè Ehm Vi chiedo veramente Scusa Raga Cercherò di impegnarmi Il più possibile Lo giuro Cosa cazzo è successo Si era buggato Tantissimo Raga Oddio L'arma Pagapancio L'arma Pagapancio Ok Ok GG Ok Ora Oppagapancio Accendo ancora qualcosa No Vabbè Ok Dobbiamo aprire Questa Si Aprire Questa Da 700 No 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 raga Non ci credo Niente Niente ragazzi Impossibile Questa mappa Impossibile Vabbè ragazzi Io ci ho provato Magari se ne volete un altro Visto che Comunque È abbastanza difficile Magari La porto con qualcun altro Visto che Un amico Che è appunto Black Ops 3 Magari in due Riusciamo a concludere Qualcosa di più Vabbè ragazzi Io vi ricordo Mi raccomando Di iscrivervi al canale Spero che comunque Il video Per Quel che ho potuto Vi sia piaciuto Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un bel pollice In su Ragazzi Mi raccomando È Bella Grazie a tutti Grazie a tutti